La salute pubblica è un bene primario da preservare e tutelare. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza rappresenta una protezione efficace dei consumatori. In quest'ottica si inserisce l'ampia operazione che ha impegnato le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria del gruppo Taranto, delle compagnie di Manduri e Martina Franca, nonché la tenenza di Castellaneta. I finanzieri hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 440.000 prodotti di tipologia varia, casalinghi, ferramenta, bigiotteria, cancelleria, capi d'abbigliamento, cosmetici, dopo aver controllato 36 esercizi commerciali in vari comuni del versante occidentale e orientale di Taranto, compreso il comune capoluogo di provincia. I titolari delle rivendite interessate sono stati segnalati alle competenti autorità in quanto i prodotti che commercializzavano erano privi delle informazioni previste dal codice del consumo.